Buon pomeriggio a tutti, è il 10 ottobre, direi che siamo puntuali, 14.30, come al solito benvenuti alla mia diretta quotidiana o quasi quotidiana, direi che ce la facciamo praticamente tutti i giorni. Come al solito, prima di entrare nel vivo dei nostri argomenti, la raccomandazione è per favore di pigiare sulla freccetta dove leggete condividi in modo tale da ampliare il pubblico di questa diretta e naturalmente potete sempre condividere con la freccettina lì sotto anche il video che resterà dopo la diretta, io lo lascio sempre tutti i giorni sul canale YouTube, naturalmente su questa pagina Facebook e anche sul mio sito www.ivanscalfarotto.it E veniamo a noi. La situazione a Roma è, diciamo così, ufficialmente molto statica, in realtà in gran movimento. Oggi è mercoledì e non c'è stata aula, non c'è stata aula nemmeno ieri, come vi ho spesso detto non arrivano provvedimenti di iniziativa parlamentare probabilmente perché non c'è accordo sulle priorità tra Lega e 5 Stelle e quindi decidere di far arrivare un provvedimento in aula significa comunque prendere una decisione e forse non riescono a farlo e quindi né martedì né mercoledì siamo stati in aula, abbiamo avuto lavori di commissione di cui tra poco vi dirò, però niente aula, andiamo in aula domani perché arriva appunto la nota di aggiornamento del DEF, il cosiddetto NADEF, per la discussione. Se l'è già discusso all'interno delle commissioni, però in realtà quello che si sussurra qui a Roma è che quel testo che voi ricordate era stato prima annunciato con grandi squilli di tromba, il famoso utilizzo del terrazzino di Palazzo Chigi e le bandiere, la manovra del popolo, ricordate si tratta soltanto di dieci giorni fa e sembra ormai un secolo, quella manovra già poi cambiata in corsa perché ricordate che Tria era andato all'Ecofin a Bruxelles ed era dovuto scappare con le pive nel sacco perché sostanzialmente il testo mancava ancora e quindi poi si erano cambiati deficit, la prima versione prevedeva che il deficit andasse al 2,4% del PIL per i prossimi tre anni, poi invece si era scesi, ricordate, al 2,1% per il 2020 e all'1,8% per il 2021, ma sembra che nonostante tutto, nonostante le dimostrazioni di sicurezza da parte sia di Salvini che di Di Maio che tra bagni di folla confermano il loro programma, in realtà le cose stanno probabilmente, o almeno questo si dice nei palazzi del potere, le cose non sono così stabili. Ha fatto particolare impressione l'uscita di Savona, che ricordate, un po' il falco del governo, era quello che doveva prendere il posto del ministro dell'economia, poi ricordate che il presidente della Repubblica si era messo in mezzo proprio a causa delle dichiarazioni di Savona contro l'euro e quant'altro, è stato lo stesso Savona a dichiarare che se lo spread dovesse arrivare a 400 punti e quindi arrivare a un livello veramente allarmante probabilmente le cose dovrebbero cambiare. Effettivamente c'è da dire che questa manovra non piace a nessuno, non piace a nessuno, diciamo, la manovra viene valutata come negativa da moltissimi, sappiamo che già la Commissione europea ci ha fatto avere una lettera, una risposta già, diciamo, sui primi numeri emersi, una risposta molto netta e ferma sulle critiche che la Commissione esprime nei confronti della manovra, i mercati, lo abbiamo detto, lo spread in questo momento è poco sotto i 300, ma ricordate che ieri è arrivato fino a 315, quindi una soglia estremamente preoccupante e poi ci sono tutti i tecnici, le autorità, diciamo così, di controllo, l'ufficio parlamentare di bilancio, la Corte dei Conti, la Banca d'Italia, tutti stanno dicendo che questo tipo di impostazione è un'impostazione che non può ottenere. Io vi raccontavo anche ieri che se ne è parlato anche in Commissione esteri, perché naturalmente noi, anche la Commissione esteri, deve dare un parere prima che il Nadef arrivi in aula e abbiamo molto discusso, perché il tema qual è? 5 Stelle, per esempio Andrea Colletti, un deputato che nella scorsa legislatura era in Commissione giustizia che è in questa legislatura in Commissione esteri con me, ha affermato, dice ma voi che criticate la manovra, come fate a definirvi di sinistra, qui ci sono dei provvedimenti che combattono la povertà e voi vi opponete a tutto questo, ma in realtà le cose non stanno così, io questo lo voglio chiarire una volta per tutti, così come siamo stati accusati di fare il tifo per lo spread, ma figuriamoci, abbiamo lavorato tantissimo negli anni di governo per tenerlo basso quello spread, quindi nessuno si augura la rovina per l'Italia, ma certo è che quando tutta una serie di organismi e di osservatori ti dicono guarda che vai a sbattere e tu non le ascolti, poi non è che puoi dire fate il tifo perché noi andiamo a sbattere, insomma, come dire, le cose le si spiega in mille modi e poi ci si assume le proprie responsabilità, allora il punto, e io voglio chiarirlo molto chiaramente, insomma nel modo più netto possibile, che fa chiedere una flessibilità di bilancio all'Europa, chiedere di poter spendere, investire di più, può anche avere un senso, il problema è che una cosa è farlo dicendo, allora io metto in piedi un piano di riforme strutturali, faccio in modo di rendere il più possibile il paese produttivo, quindi lavoro sulla produttività, lavoro sull'efficienza, lavoro sulla capacità di spendere anche i soldi per gli investimenti, che è uno dei grandi problemi che abbiamo, lavoro per fare in modo che il paese crei prosperità e quindi attraverso investimenti come per esempio noi avevamo fatto, ricordate, il piano industria 4.0, avevamo stanziato 20 miliardi il primo anno, 10 miliardi il secondo, il piano straordinario per il made in Italy, oggi tra l'altro Carlo Cottarelli fa un bel pezzo, mi pare, sulla prima pagina, credo, della stampa, dove dice bisogna puntare sull'export perché se la nostra domanda interna langue, noi che siamo un grande paese esportatore, dobbiamo approfittare appunto della domanda esterna di mercati esteri che possono, dove possiamo collocare i nostri prodotti come grande paese manifatturiero quale siamo, allora una cosa è dire io chiedo flessibilità, mi prendo flessibilità, ma metto tutti nella condizione di fidarsi di noi, cioè di fidarsi del fatto che l'Italia che è un grande debitore, quel debito sarà in grado di onorarlo perché sta risanando la propria economia e sta diventando diciamo così più capace di produrre prosperità, reddito, ricchezza con la quale ridurre il debito e rimborsare quel debito, una cosa è diciamo così dire io spendo, spendo perché il popolo è con me e spendo soprattutto con delle misure, io l'ho detto anche a colletti, scusa ma io non accetto di avere lezioni su che cosa sia la sinistra da uno che fa indebitare tutto il paese per fare un condono fiscale, cioè indebita tutti quanti i cittadini, anche quelli che hanno pagato le tasse per consentire a qualcuno che quelle tasse non ha pagato di non pagarle perché questa è la verità, poi alla fine diciamoci le cose come stanno, la spesa, questo debito è tutta spesa corrente, sono un reddito di cittadinanza che francamente, noi abbiamo fatto il reddito di inclusione, ora si può dire che magari lo si è fatto tardi, non lo si è fatto abbastanza, ma una cosa è fare il reddito di inclusione, una cosa è dire io do 780 euro a tutti e lo si perde se si rifiutano tre offerte di lavoro, ora io mi chiedo quanto sia realistico pensare soprattutto in certe regioni del mezzogiorno dove c'è una crisi profonda che qualcuno riceve addirittura tre offerte di lavoro, non una ma tre e poi magari ricevi l'offerta di lavoro con qualcuno che ti dice ti do 800 euro, 1000 euro, io mi chiedo perché qualcuno dovrebbe dire ma io senza far niente ne prendo 780 e magari faccio anche un bel lavoretto in nero e invece rinuncio al reddito di cittadinanza e vado a prendere, vado a prendermi e appunto un posto di lavoro. Allora il tema è che una cosa appunto è investire, una cosa è prima di tutto farlo bene, quindi prendersi lo spazio spiegando a chi ci osserva che stiamo prendendoci dello spazio perché ce lo possiamo permettere, perché stiamo lavorando per potercelo permettere, una cosa è spendere e spandere, dando poi l'impressione di voler arrivare a uno scontro frontale con l'Unione Europea, perché con tutta sincerità io mi dico che è chiaro che si vuole provocare lo scontro perché altrimenti certe dichiarazioni di Di Maio, certe dichiarazioni di Salvini, non torneremo indietro, la manovra del popolo, la detta del popolo, sembra quasi che si voglia provare a creare, questo l'ho detto spesso anche in queste dirette, una sorta di Venezuela nel centro del Mediterraneo, provare a dimostrare che il sistema che abbiamo conosciuto finora non funziona e quindi in buona sostanza mandare il tavolo per aria e chi vi verrà vedrà, nel senso che poi cominciamo a smantellare questo sistema, se ne verrà un altro che funziona bene e se invece non dovesse funzionare qualcuno pagherà il conto, però il problema è che il conto sappiamo benissimo chi lo pagherà, chi ha i soldi, chi è ricco si può anche permettere di comprare dei derivati e scommettere sul fallimento dell'Italia, chi ha un reddito fisso e chi vive del suo, diciamo del suo lavoro poi alla fine diventa poi la vittima di questi apprendisti stregoni che rischiano tutto senza sapere esattamente dove stiamo andando. E quindi in questo momento l'aula è ferma, quindi non ci sono atti ufficiali ma a quanto pare nei palazzi si guarda con grande preoccupazione a quello che sta succedendo e si sta cominciando a ragionare su un piano B. Ci sono personaggi in questo governo che sono diciamo così più saggi di altri, penso Giancarlo Giorgetti per esempio, che risulta, insomma si dice, stia cercando di portare qualche tipo di saggezza nella maggioranza, naturalmente il povero ministro Tria che sta facendo una gran figura, diciamolo pure, la scena di ieri col presidente della commissione bilancio Borghi che gli spegne il microfono, fa il paio con quella della guardiana della casaleggia associati che l'ha trascinato via dalla conferenza stampa Palazzo Chigi di cui diciamo da questa scena è stata tratta questa esilarante imitazione di Maurizio Crozza. Ecco, il povero Tria fa quello che può, però devo dire c'è grande preoccupazione. Comunque domani avremo il dibattito in aula, quindi sicuramente vi aggiornerò, tra l'altro non sono sicuro domani di riuscire a fare la diretta proprio perché saremo in aula per molte ore, ma insomma mi riprometto al più tardi dopo domani di farvi sapere esattamente le cose come stanno andando. Io mi fermerei qui, c'è ancora una sola cosa che voglio dirvi, tra l'altro ricordate di pigiare la freccetta con la scritta condividi, ed è una buona notizia per quanto mi riguarda, riguarda sempre il governo, paradossalmente vedete mi sforzo di essere bipartisan, ma insomma ieri al Ministero dello Sviluppo Economico si è riunito il Tavolo della Moda, alla presenza del Ministro Di Maio, del Ministro Bonisoli, il Ministro della Cultura e di Michele Geraci che è il mio successore come sottosegretario al Commercio Internazionale. Lo dico perché che il Tavolo della Moda si riunisse di nuovo non era scontato per niente, è stata una direi delle cose belle e buone che abbiamo fatto durante gli anni di governo, il Tavolo della Moda quando l'ho presieduto io si è riunito ogni mese, è servito a creare coordinamento all'interno del sistema della Moda Italiana, ci ha consentito di coordinare i calendari di tutte le manifestazioni milanesi, di lanciare Milano XL, questa grande manifestazione che si fa nel mese di settembre durante la Moda Donna a Milano, abbiamo supportato le fiere come Pt Uomo, come Vicenza Oro e altre, il Mido, il Micam, quindi quella degli occhiali, delle calzature. Grazie al Tavolo della Moda le varie associazioni confindustriali che lavorano nel tessile e anche negli accessori si sono confederate ed è nata Confindustria Moda dopo decenni in cui da un lato c'erano i gioiellieri, dall'altro c'erano quelli che fanno gli occhiali, dall'altro c'erano i tessili e dall'altro ancora quelli della cosmetica o di altri settori e quindi non era detto che il Tavolo si riunisse, c'era stata anche qualche lamentela da parte appunto degli esponenti, penso a un'intervista che era uscita di Carlo Capasa, il presidente di Camera della Moda, ma insomma ieri questo tavolo si è riunito, io ne sono contento, la moda spesso viene considerata un settore effimero, frivolo e invece un settore importantissimo della nostra economia che dà da lavorare a 600.000 persone, ci sono 70.000 aziende, un fatturato che tutto aggregato supera i 100 miliardi, compresi tutti appunto i settori degli accessori, della cosmetica e quant'altro, quindi mi fa piacere pensare che questo esercizio diciamo così continuerà perché va bene per la nostra economia, tra l'altro devo dire che noi avevamo concluso il Tavolo della Moda con la pubblicazione di un libro bianco, il caso ha voluto che uno degli autori del libro bianco del mio Tavolo della Moda fosse appunto Bonisoli che poi è diventato ministro in questo governo, quindi c'è anche un elemento di continuità che mi piace sottolineare, spero che le cose vadano bene, lo faccio perché poi alla fine è vero bisogna tifare per l'Italia e la moda e poi il sistema dell'eleganza italiano oltre a tutti i numeri che ho già detto ha una fortissima componente di evocazione della nostra identità nazionale, l'Italia è identificata in tutto il mondo anche con i suoi abiti, con i suoi gioielli, con la sua eleganza, quindi non è soltanto un settore produttivo ma un settore produttivo che porta con sé anche una gran parte dell'immagine e della bellezza che contraddistingue e che tutto il mondo associa naturalmente all'Italia, quindi questa è una buona notizia, buon lavoro a Michele Geraci per il Tavolo della Moda e anche ad Alberto Bonisoli, spero che la cosa continui, insomma continuerò naturalmente ad osservarli anche da deputato dell'opposizione, preoccupandomi peraltro di verificare se poi nella legge di bilancio vedremo il piano straordinario per il Made in Italy rifinanziato oppure no, perché per il momento di internazionalizzazione e di esportazioni non si parla particolarmente. Io mi fermo qui, sono esattamente alle 14.45 quindi ho usato appieno i miei 15 minuti, vi ricordo ancora per l'ultima volta di pigiare sulla freccetta condividi per il video che tra pochissimo apparirà sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla mia pagina Facebook e sul mio canale YouTube, nel frattempo vi saluto, vi auguro un'ottima serata, spero che riusciremo a vederci domani ma al più tardi, dopo domani, al mio rientro a Milano. Buon pomeriggio a tutti e a presto, ciao!